Ehi, guarda tutto questo video se vuoi un tips molto importante sull'acquisto di carte collezionabili. Mi chiedono molto spesso qual è il momento giusto per acquistare le carte per i nostri investimenti. Allora ci sono tre fasi, la prevendita, quando esce l'espansione e poi settimana o mesi dopo l'uscita. In prevendita è molto rischioso perché i prezzi sono di solito alti e la conoscenza del potenziale delle carte molto molto bassa. Quindi io in prevendita ti consiglio di comprare solo poche carte e solo se sei molto sicuro che quelle carte abbiano un reale potenziale. Al giorno dell'uscita o nel momento in cui escono le carte si possono fare degli acquisti interessanti perché iniziano ad aumentare le copie sul mercato e la conoscenza non è ancora così tanto alta. Quindi si possono fare veramente degli ottimi affari, ma anche qui fai molta attenzione, non investire troppo e cerca di limitarti alle carte di cui sei sicuro. Settimane e mesi dopo l'uscita invece è il momento migliore in cui acquistare. Tante carte crollano, arrivano a prezzi veramente molto bassi e se riesci a trovare l'investimento giusto puoi fare un guadagno ottimo. Qua in questa fase puoi comprare molto di più perché spenderai meno per più carte, quindi diversifichi il tuo investimento. Seguici su YouTube, su TikTok e su Instagram per altri tips. Ciao!